Ah, mamma mia, quanto sole, è ora di svegliarsi. Vabbè, lo sistemerò dopo. Devo andare prima in bagno. Potete spiare? Ascensore, su! Guarda la mia ascensore. È molto, molto bella. Ora, ascensore, apriti. Non ci fate caso, bambini, ma io ho l'ascensore rotta. Domani verrei. E dimenticavo, io ho la casa a due piani. È meraviglioso. Ho tanta fame. Ho voglia di succo e di uova. Anzi no, c'è qualcosa nel frigorifero. Quindi, vederò. Tavolo, spostati. La mia casa è magica. Vediamo. Oh no, ci sono solo uva. Non fa niente. Tavolo, di qua. Vu, 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 vieni. Oh, mamma mia. Bambini, ci vediamo al... Ci vediamo al soggiorno. Ora devo mangiare. Devo tagliare la parte, perché se no vengono ierite. Ciao, ciao. Oh, mamma mia, che stanchezza. Ora mi vedo un po' di tv. Ecco qui. Oh, che cosa interessante. Fa Mandalorian. È la mia serie tv preferita. E c'è anche il mio papino. E' molto bravo. È il momento del bagno. Andiamo. L'ascensore, apriti. Perfetto. Ok, ora mi devo fare un bel bagno. Iniziamo l'asciugamento qui. Sì, sì. Io ho dei poteri. E quindi uso i miei poteri per fare le pulizie. E per sistemare le cose. Un bel bagnetto caldo al giorno ci vuole sempre. Ciao. Ci vediamo a sistemare il letto. Ok, dopo che ho sistemato il mio lettino, vado sopra. Uno, due, tre. Eccomi qui. Ora mi abbrunzerò un pochino. Ciao, bambini. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.